Quasi tre settimane per ufficializzare la propria giunta, Sabatino di Girolamo, sindaco di Roseto, ha avuto come primo banco di prova quello di gestire il delicato rapporto di apparentamento avvenuto con la lista Amoroseto, guidata da Giulio Cesare Sottanelli, che proprio ieri, scoperto di non aver ottenuto nessuna poltrona, a mezzo comunicato stampa, ha espresso tutto il proprio dissenso e l'avvio di un divorzio con il PD targato Roseto, che ha beneficiato, sottolinea, di ben 4.450 voti dell'ex avversario. Questo divorzio dispiace molto al sindaco di Roseto, eletto recentemente, perché il sindaco di Roseto voleva avviare un percorso di unità e un percorso di riappacificazione di tutte le anime del centro-sinistra rosetano. È chiaro che questo obiettivo non poteva avvenire a discapito della stabilità di governo, cioè sconquassando il gruppo consigliare del PD, cui ho il dovere, che io ho il dovere di mantenere unito. È stato detto, assenza totale di D'Alfonso a Roseto, non solo durante la campagna elettorale, ma anche dopo la nomina. Lei ha mandato anche un messaggio al governatore D'Alfonso? Conto però che in futuro il nostro governatore voglia rispettare la volontà dei rosetani e quindi collaborare con il sindaco che i rosetani hanno con chiarezza scelto. Il primo lavoro del nuovo sindaco sarà quello del bilancio, la situazione come si preannuncia. Non ho avuto tempo ancora di rendermi conto dello stato del bilancio comunale. Questa è la prima cosa a cui metterò mano con l'aiuto del neoassessore Frattari, che è estremamente esperto in materia, per capire come sta il nostro bilancio. È la condizione sine qua non per avviare quest'opera di conoscenza, per avviare un lavoro serio dedicato soprattutto alla manutenzione del territorio. Con quale criterio ha scelto i suoi assessori? Il criterio è stato quello di mischiare esperienza e gioventù innanzitutto, e credo di esserci riuscito, l'entusiasmo dei novizi con quello di maggiore esperienza. Simone Tacchetti sarà vice sindaco con delega ai lavori pubblici, al lavoro e ai servizi cimiteriali. Poi Antonio Frattari, delega al bilancio finanze e programmazione economica, commercio, patrimonio e pulizia municipale. Nicola Petrini, assessore a manutenzione del territorio, ambiente, parco mezzi, anagrafe, servizi demografici e agricoltura. Luciana Di Bartolomeo, assessore ai servizi sociali, alla pubblica istruzione. E infine Carmela Bruscia, delegata a cultura e turismo. Restano nelle mani del sindaco di Girolamo le deleghe allo sport e all'urbanistica.